Cercherò di riassumere quelle che sono le evidenze di letteratura rispetto al trattamento dei comportamenti aggressivi e violenti fondamentalmente occupandomi di due aspetti. Uno su cui ci sono molti più dati di letteratura, ovvero la gestione dei comportamenti aggressivi, cioè la gestione dell'agitazione psicomotoria nei contesti di emergenza, che è una cosa a cui i psichiatri sono abituati nella pratica clinica e vedremo come il nostro operare si discosta o si allinea rispetto alla pratica clinica, quali sono le divergenze. L'altro che è meno battuto da un punto di vista della letteratura internazionale è la gestione farmacologica dell'aggressività più a lungo termine, quindi nel contesto dei diversi disturbi psichiatrici. Già le relazioni che mi hanno preceduto hanno un po' indicato quali sono i disturbi psichiatrici e quali sono le condizioni mediche generali che possono essere associate a comportamenti violenti, quindi le psicosi in fase acuta, i disturbi bipolari, così come le intossicazioni da sostanze e i disturbi di personalità. Tutte le linee guida ci raccomandano di escludere sempre una causa organica nel disturbo e questo è fondamentale nei contesti di emergenza dove abbiamo poco tempo per prendere una decisione e quindi per decidere e stabilire un trattamento. Quindi la causa organica, come ad esempio lo squilibrio elettrolitico che può sottendere un delirium, quindi uno stato confusionale acuto o patologie primariamente neurologiche, alterazioni del sistema nervoso centrale, possono determinare. Ovviamente non è sempre possibile effettuare uno screening del paziente e bisogna agire in maniera tempestiva. Quali sono i protocolli? Le relazioni che mi hanno preceduto hanno evidenziato come vi siano tutta una serie di interventi di tipo verbale e di tipo comportamentale volti a ridurre il comportamento aggressivo. Noi ci occuperemo appunto del trattamento farmacologico e di quanto sia importante cercare inizialmente di coinvolgere il paziente ove possibile nella scelta della somministrazione. In che senso? Tutte le linee guida ci raccomandano di preferire una somministrazione per via orale con gocce o formulazioni erodispersibili quando abbiamo un'agitazione di grado lieve e di valutare, fare un esame di routine, la valutazione dei parametri vitali della glicemia e dell'esame tossicologico. Come sappiamo non sempre questo è possibile. Limitare la contenzione fisica ai casi in cui è strettamente necessario e preferire le benzodiazepine in caso di astinenza alcolica o in caso di astinenza da alcol, mentre nell'intossicazione alcolica è preferibile utilizzare gli antipsicotici tipici e atipici. Evitare la somministrazione concomitante di benzodiazepine insieme ad olanzapine per via intramuscolare è aggiustare le dosi nel caso dei pazienti anziani agitati. Chi lavora nei contesti ospedalieri viene frequentemente chiamato nei reparti di medicina generale per il controllo dell'agitazione in pazienti che hanno stato confusionale acuto dovuto a situazioni organiche oppure nelle condizioni di demenza. Su questo le linee guida sono abbastanza controverse proprio rispetto al trattamento farmacologico. Che cosa però succede nella pratica clinica? Che come sappiamo il paziente spesso non è collaborante, non è possibile effettuare un esame in urgenza, che spesso mancano dei protocolli condivisi con i colleghi che lavorano nelle aree di emergenza, non sempre è possibile fare l'esame tossicologico, quindi ci troviamo a prendere delle decisioni abbastanza al buio, quindi dobbiamo valutare gli elementi clinici per esempio se siamo convinti che ci troviamo di fronte a un'ontossicazione da sostanze. Di recente ad esempio ho visto in pronto soccorso un ragazzo che aveva uno stato psicotico acuto e che aveva assunto del PEP, quindi una sostanza che è simile all'MDMA e che era stata in grado di provocare, il paziente l'aveva assunto all'estero, era stato in grado di provocare deliri e allucinazioni ma anche un aumento della temperatura corporea, della frequenza e della pressione, quindi con un quadro abbastanza anomalo nella sua presentazione. Spesso i nostri esami tossicologici, anche quando è possibile farli, non riconoscono le nuove sostanze d'abuso che invece sono un fenomeno in aumento. Un'altra area critica è quella di cui parlava anche il professore franco-umano, cioè la necessità di discriminare quelli che sono i comportamenti violenti associati a una patologia psichiatrica da quelli che sono invece comportamenti criminali e violenti derivati da una retroterra culturale particolare e quindi l'ambiguità del mandato dello psichiatra rispetto al controllo e alla gestione di questo tipo di comportamenti. Un altro elemento critico è la carenza della letturatura scientifica rispetto al trattamento farmacologico, dell'aggressività e della violenza che avviene nella maggior parte dei casi con l'utilizzo di farmaci off-label, quindi al di fuori delle prescrizioni terapeutiche. Abbiamo moltissimi studi che riguardano la schizofenia e il disturbo bipolare, pochissimi studi che riguardano il trattamento dei disturbi per esempio di personalità borderline e antisociale o a condotte aggressive associate ad altro tipo di disturbi. Quali sono le classi farmacologiche utilizzate prevalentemente? Sono gli antipsicotici tipici, quindi antipsicotici neurolettici tradizionali, quelli atipici di nuova generazione, le benzodiazepine e gli antistominici. Mentre i vecchi protocolli prevedevano l'utilizzo di antipsicotici a bassa potenza come ad esempio le fenotiazine, i nuovi protocolli, quindi le linee guida NICE ad esempio o le linee guida della World Federation Society of Biological Psychiatry prevedono invece l'utilizzo dei neurolettici ad alta potenza come l'aloperidolo che ha un effetto sedativo minore, ha minore rischio di potenzione e ha un'azione rapida, se somministrato per via intramuscolare ha un minore effetto sulla soglia convulsiva. Si ricorda che è la raccomandazione dell'FTA di evitare la somministrazione per via endovinosa che invece viene ancora praticata in alcuni reparti di medicina e che come sappiamo tra gli effetti collaterali oltre all'allungamento del QTC possono essere presenti gli effetti collaterali di tipo extrapiramidale che però possono essere ridotti associando l'aloperidolo, le benzodiazepine, in particolare l'orazepam o la prometazina. Per quanto riguarda invece il trattamento dell'agitazione psicomotoria con gli antipsicotici atipici, questo ha il vantaggio di produrre, i dati parlano di un'efficacia pari ad aloperidolo, di olanzapina, ziprasidone e a ribiprazolo, è un'efficacia pari anche alla terapia combinata l'operidolo e l'orazepam che è una delle terapie combinate più riportate dalle linee guida e del risperidone nei casi in cui sia possibile optare per una somministrazione per os, nei casi quindi di agitazione più lieve. Per quanto riguarda le benzodiazepine come sappiamo sono più managevoli, il lorazepam ha un'efficacia pari a quella dell'aloperidolo e sono il trattamento di prima scelta nel momento in cui non conosciamo la causa dell'agitazione psicomotoria, quindi ci troviamo di fronte a un paziente di cui non conosciamo la storia nell'anannesi psichiatrica, non ci sono familiari che ci possano dare altre informazioni e nei casi di intossicazione da stimolanti da cocaina. Ancora abbiamo detto che sono il trattamento di prima scelta nell'astinenza alcolica, possono dare raramente disinibizione paradossa, sono più a rischio pazienti anziani e pazienti con lesioni cerebrali organiche. Tra le benzodiazepine è da preferire il lorazepam perché è quello che ci consente attraverso una somministrazione per via intramuscolare un assorbimento rapido, è un'azione efficace e rapida, contrariamente a quello che succede per esempio con il diazepam somministrato per via intramuscolare che ha un assorbimento meno prevedibile. In alcuni contesti è possibile utilizzare il midazelom che ha una potente azione sedativa, però le linee guida raccomandano di utilizzarlo nei contesti in cui è possibile effettuare un monitoraggio di tipo cardiologico e della funzione respiratoria. Tra gli antistaminici i dati ci riportano che alcuni antistaminici vengono utilizzati per le loro proprietà ansiolitiche come per esempio l'atarax che viene utilizzato nel trattamento a breve termine dell'ansia. Per via intramuscolare il farganesse è abbastanza utilizzato nella pratica clinica, ha dei risultati controversi e molti studi ne supportano l'efficacia in associazione ad aloperidolo, nella tranquillizzazione rapida. Per quanto riguarda l'impiego di altri farmaci ho fatto lavoro di revisione della letteratura per quello che riguarda i farmaci più classici utilizzati nei contesti di emergenza e quindi la clotiapina, la clorpromazina e la tiapride. Ci sono studi ormai abbastanza datati e nessuno di questi farmaci viene raccomandato come trattamento di prima scelta. Per quanto riguarda la tiapride, quindi il cereprile viene indicato per disturbi comportamentali nell'anziano e nei disturbi comportamentali associati a etilismo acuto e cronico. In alcuni paesi è disponibile invece la loxapina che è un antipsicotico di vecchia generazione che adesso è disponibile però in una forma per via inelatoria, quindi viene somministrato al paziente un PUF e viene ritenuta una modalità anche più accettabile nel paziente, che ha un'azione estremamente rapida, paragonabile a una somministrazione per via endovenosa e con una modalità poco invasiva. Questo antipsicotico è adesso disponibile negli Stati Uniti e in altri paesi ma non ancora presente in Italia. L'anno prossimo uscirà. Questo è il protocollo che è stato già presentato rispetto alla scelta della strategia farmacologica in relazione alla causa dell'agitazione psicomotoria e non mi soffermo. Quindi in sintesi, contrariamente a quello che probabilmente ci aspettiamo perché nella pratica clinica le fenotiazine sono ampiamente utilizzate, la terapia raccomandata è aloperidolo più l'orazepam oppure gli antipsicotici atipici e le benzodiazepine quando la causa non è nota. Nel delirium invece è preferibile utilizzare aloperidolo a basso dosaggio, massimo 3 mg, quindi nello stato confusionale acuto ed evitare le benzodiazepine perché possono peggiorare il quadro. Per quanto riguarda invece il trattamento dell'aggressività nel contesto dei disturbi psichiatrici maggiori, l'antipsicotico che ha la maggiore efficacia rispetto al trattamento dell'ostilità, dell'aggressività è la clozapina. Quindi non solo nei pazienti con schizofrenia resistente al trattamento ma la clozapina ha un ampio spettro di efficacia al di fuori della schizofrenia anche nel disturbo bipolare e nel ritardo mentale e in alcuni disturbi di personalità. Quindi sembra che possa ridurre l'aggressività e il comportamento violento indipendentemente dall'effetto antipsicotico. Ovviamente però mentre la schizofrenia può essere somministrata tra le indicazioni terapeutiche sappiamo che quando la somministriamo in altri contesti è una prescrizione off-level e trattandosi di un farmaco poco managgevole dobbiamo monitorare attentamente gli effetti collaterali. L'anzapina è più efficace rispetto a altri antipsicotici atipici nella riduzione dell'aggressività ma meno della clozapina. Ci sono alcune evidenze di efficacia della carbamazepina associata al trattamento antipsicotico rispetto alla riduzione del comportamento violento mentre non esistono evidenze di efficacia che antipsicotici e benzodiazepine dati come trattamento a lungo termine possano prevenire in alcun modo i comportamenti aggressivi e violenti. Un'altra novità nel contesto farmacologico che non c'è stata ancora presentata, sono dati molto recenti del PA del 2015 è la cariprezina che è un antipsicotico efficace nel ridurre l'ostilità nei pazienti affetti da psicosi. Nel disturbo bipolare il litio rappresenta il farmaco di prima scelta nei comportamenti auto ed eteroaggressivi. Rispetto agli stabilizzanti dell'umore quello che mi colpiva nello studio della letteratura è la discrepanza tra l'utilizzo degli stabilizzanti e l'umore come il valproato e la mancanza di evidenze di efficacia. C'è una review del 2010 di Jones che parla proprio dell'utilizzo degli stabilizzanti dell'umore nei comportamenti aggressivi e violenti e contrariamente a quello che ci aspettiamo le evidenze di efficacia del valproato sono abbastanza scarse. Ci sono più evidenze di efficacia rispetto a oxcarbazepina e carbamazepina molto meno rispetto al valproato. Ci sono dati controversi rispetto agli studi clinici controllati che sono stati fatti. Ecco, ora in questa revisione della letteratura mi premeva valutare quali sono i trattamenti efficaci perché spesso nella pratica clinica ci troviamo a fare delle scelte sulla base di esperienza comune ma forse sono meno conosciuti i trial clinici randomizzati nei contesti di patologie che non hanno delle indicazioni specifiche, quindi al di fuori delle psicosi. Nel ritardo mentale si impiegano comunemente stabilizzanti antipsicotici e benzodiazepine. Che cosa ci dice la letteratura? Che le benzodiazepine sono efficaci, sono in acuto. Quindi trattare a lungo termine un paziente con ritardo mentale con le benzodiazepine non è efficace. Il litio ha una sua efficacia nel ritardo mentale. Come vi dicevo, acido valproico e carbamazepina sono di impiego comune ma ci sono pochi trial clinici randomizzati, controllati su questo argomento. Anche gli antipsicotici di prima e seconda generazione sono impiegati ad alti dosaggi in questi pazienti che spesso non sono in grado di riferirci gli effetti collaterali quindi che vanno strettamente monitorati e che hanno delle prove di efficacia abbastanza dubbie. I farmaci che hanno un maggiore prove di efficacia nel ritardo mentale sono risperidone e litio. Il disturbo borderline, come vi dicevo la clozapina, anche qua ha dimostrato di avere una efficacia nella riduzione dei comportamenti aggressivi. Tra gli SSRI la fluxetina ma sono i risultati provenienti da uno studio abbastanza datato e su un campione molto piccolo di pazienti. Una revisione più recente del 2010 invece ci dice quali classi farmacologiche sono dimostrate efficaci nella riduzione di alcune delle dimensioni del disturbo borderline. Come sappiamo ha una costellazione sintomatologica piuttosto complessa, nessun farmaco rappresenta il cold standard per il trattamento del disturbo in toto ma ci sono dei farmaci che hanno dimostrato un'efficacia su rabbia e ostilità e in particolare tra gli antipsicotici, aloperidola, ripiperazole o lanzapina e tra gli stabilizzanti valproato, lamotrigina e topiramato. Disturbo di personalità antisociale, questo è un disturbo che ci mette anche abbastanza in difficoltà nei contesti di emergenza perché è sempre un territorio di confine che non si sa se a volte attiene più a un problema di tipo comportamentale o a un problema di tipo psichiatrico. Non ci sono trial clinici randomizzati su questo disturbo, ci sono dei case report che sostengono l'efficacia di risperidone e quetiapina e litio e carbamazepina tra gli stabilizzanti. Ci sono state anche delle prove di efficacia con SSRI tra cui sertralina e fluoxetina ma sono sempre dei case report o trial clinici con campioni estremamente limitati. Nella demenza, anche questo è un capitolo piuttosto complesso perché non so nella pratica clinica a quanti di voi capita di essere chiamati in consulenza per l'aggressività dei pazienti dementi che hanno spesso patologie concomitanti e che sono un territorio di confine tra la neurologia e la psichiatria e veniamo chiamati per trattare disturbi comportamentali. Il tutto aggravato dal fatto che i farmaci che sembrano avere un'efficacia come l'anzapina e il risperidone hanno ricevuto un warning rispetto all'incremento del rischio di stroke che comunque è presente anche per l'aloperidolo. I farmaci più efficaci sono il risperidone a bassi dosaggi 0,25 2 mg. Anche qui nella pratica clinica è diffuso l'utilizzo di valproato, penso che qualsiasi psichiatra abbia prescritto il valproato a un paziente demente nel tentativo di ridurre i problemi comportamentali. Però linee guida NICE del 2015 non raccomandano l'utilizzo di valproato in questi pazienti. Per le scarse evidenze efficacia è la presenza di effetti collaterali. Il disturbo esplosivo intermittente, ne parlava poco fa Giovanna Marrazzo, è un disturbo che anche qua ha pochissimi dati, non ci sono indicazioni specifiche, però gli SSRI hanno dimostrato un buon profilo di efficacia, efficaci nel 66% dei pazienti, come per esempio la fluoxetina. Quando l'SSRI non è efficace, è inutile cambiare tipo di SSRI, è preferibile utilizzare la fenitoina, quindi un anticonvulsivante, oppure oxcarbazepina e carbamazepina, che hanno dimostrato una certa efficacia nel ridurre il comportamento aggressivo-impulsivo. Nei pazienti refrattari, SSRI, fenitoina e oxcarbazepina si può fare uno switch, quindi riducendo progressivamente il farmaco precedente, verso altre opzioni terapeutiche come la motrigina, topiramato, valproato e litio. Quindi come vi anticipavo, gli stabilizzanti dell'umore vengono somministrati in questi casi off-label, senza un supporto di efficacia consistente. Nel 2010 ha dimostrato un'efficacia della carbamazepina, dell'oxcarbazepina e litio, ma non di valproato e levetiracetam nel trattamento dei disturbi aggressivi, dei comportamenti aggressivi associati a qualsiasi tipo di disturbo psichiatrico. La review sull'acido valproico nel trattamento in pazienti non affetti a disturbo bipolare, questa è una review con risultati controversi, dice che è efficace nella demenza, nelle sindrome cerebrali organiche, però come vedete non ci sono dati omogenei rispetto all'efficacia. Con questo concluso vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.